Ragazzi sto facendo quest'intro alle 5 del mattino Ho appena finito di editare il video Alias ha deciso di far fare il provino al padre Al suo vero padre So successe le peggio cose divertentissimo Peccato che loro avevano l'audio un po' basso del microfono E io vi ricordo di supportarmi nello shop Codice creatore dico trattino abusivo Taggate sia me che la pagina Perché oltre a provare di entrare nella community del mio team Se siete veramente forti Entrerete nel team ufficiale Sto creando un discord per la community Quindi tenetevi aggiornati Codice creatore dico trattino abusivo Darò il discord solo ai miei supportatori Quindi raga taggatemi su Instagram Prenderò 10 di voi al giorno E gli darò il discord più abusivo d'Italia Ok ragazzi ci siamo Alias è pronto tuo padre? Si si lo vedo abbastanza pronto Io lo vedo abbastanza carico Ho già partito Va bene partite vai Guarda che questo è un provino Ma sta già sparando Io sto 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 Brava Alias la vedo dura eh Alias la vedo dura qua Vediamo quanto regge Alias La vedo molto tosta per il povero Alias Però magari è la prima partita Può essere andata male per la prima partita Oh putto già scuma Perché scuma ha cercato di pittonarlo Vediamo con Jaren Oh ok niente Va bene Venire addosso così Venire addosso così Eh è tosta Alias vabbè la prima partita ci sta Devi giocare bene che è un provino Alias sei sicuro che è forte? Si si Ok ok però peccato non posso osservarlo Ma sta fermo Alias ma sta fermo Va bene va bene dai Ragazzi Eh metti qua Vedo molto toro Alias la scumola ho già Niente Oh a scuma ho dovuto a terra Eh vabbè Ma perché Va perché cerca di picconarti Cerca di picconarti Eh ho capito Va bene va bene va bene Ok Vediamo a scuma Eh Alias è andato Vediamo il padre Ma gioca bene perché sono andato a terra Vediamo il padre Ma cos'è? Devi apri il muro Metti il muro Aspetta Vabbè a scuma cerca di prenderlo Niente raga Ma lo sta trollando Ma cosa sta Ma chi sta sparando? Ma picconarti A chi sta sparando il padre di Alias No Però così non va bene Cioè devi giocare bene Così no eh Cioè veramente Alias tranquillo tranquillo Non arrabbiarti Ma sta trollando tuo padre O è così sul serio? Eh Alias No è serio Sta giocando serio Ma non può entrare nel team Perché non è morto? Alias Mamma mia che male Non può entrare nel team Lo vedo concentrato Attenzione Alias Riesce a passare il pavimento A scuma Va sempre giù Perché non vuole vittonare Ok Mi fa vincere un round Mi fa vincere un round Ok 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 Così non va per niente bene Tu non puoi entrare in un team Serio competitivo Così Ale ma ti vuoi trovare zoppo Entro domani mattina Attenzione ragazzi Attenzione Guarda che ti venga a trovare Ti porto direttamente le stampelle Ok Alias Cosa un minacce toste Cioè non puoi È allucinante Cioè Io voglio far bella figura E tu arrivi Così Voglio osservare tuo padre Ragazzi Mi fate una cosa Vi fate uccidere dal padre di Alias Per favore un attimo Ma per favore non muore Ma è già morto Nel prossimo round È mortale Dovete farvi uccidere dal padre di Alias Per forza Va bene Mi stai facendo Nervosire di tutto A scuma Jaren Capito A scuma Ma Jaren il prossimo round Dovete farvi uccidere dal padre di Alias Questo round Dovete farvi uccidere dal padre di Alias Perché voglio osservarlo Va bene Poi di a scuma Ci stai Ok Perfetto Ok Così lo osserviamo un attimo Voglio capire Alias così faccio il provino serio Voglio vederlo bene Come gioca Ok ok Oh Patti Devi insegnare però Oh è un gioco Non picco Non picco Naro Fatti uccidere a scuma Alias non lo devi uccidere Non riesce a prenderlo Ok 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 Ce l'ha fatto Basta sono finiti A chi spari Sono finiti Sono finiti A chi spari Ok Così Devi giocare serio Ok Alias Vuoi sopravvivere A sta partita Ok Alias adesso lo osservo Non puoi giocare Adesso lo osservo C'era troppo male Ok ragazzi Serviamo il padre di Alias Vediamo come gioca Non builda Non builda Alias ma non builda Alias Ragazzi Non Ma cosa Ragazzi Ma 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 veramente Neanche i bot Devi buildare Builda Almeno quelli buildano Ma non sta buildando Cosa sta dicendo Alias ma chi mi ha portato Ma chi mi ha portato Alias Lo vedo pure abbastanza aggressivo Attenzione ha messo una scala Non ci credo Spara Alias È morto È morto È morto È morto Ma lui sta Ma chi spara Perché sta sparando Oh ha fatto così Ragazzi ma Alias ma Ma ci Ma ci vede bene Chi sta sparando No ragazzi Sta sparando Oh Se l'ha fatto Ok 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 Jaren Solo piccolate Solo piccolate Solo piccolate Vediamo se ce la fa Vediamo se ce la fa Ripreso vita Ma pure lui di piccolo Non è giusto De andare di poco Ok Ok Alias No pa Pa Così non va bene Non va bene Non va bene proprio così Andare di pompa Di pompa Di pompa Di pompa Di andare di pompa Di pompa E' più forte il padre di Zerbian Dai Dai Quello Si Penso che si Però una sfida ci sarà Tra il padre di Zerbian Oh dai che è andato Lo deve prendere Fra 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 No vabbè Sarà la sensibilità Diego Sicuro Perché ridi Non credo Siamo all'ottavo round Alias Ho visto cose bruttissime Ed è già morto tuo padre Si ho capito Ma lui non gioca proprio Cioè non gioca proprio Che significa non gioca proprio E Ale Vedi che ti spacco tutto Cosa non gioca proprio Ale ti spacco Che sto giocando veramente male Dai ma cos'è sta roba Ale ti spacco tutto Ma hai rotto le p***e Ok ragazzi La tensione Si palpa Che è un gioco Attenzione si palpa Ale Il padre di Alias La sta vedendo un po' brutta Non so ragazzi È un po' Se l'ha un po' presa Se l'ha un po' presa Se l'ha un po' presa Ragazzi nel frattempo Sono le 2.40 di notte Quindi è anche tardi Guarda 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 Ok ha picconato Alias è andato picconato Ok Alias che vogliamo fare Alias che vogliamo fare Papà Veramente Dai veramente Ma spengi quella play Vai a giocare tipo Brawl Alla Non lo so Cioè veramente Dai non è 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 Ah no Biglie scusa Le biglie Ragazzi È un grande Povero Alias Non c'è Non è modo Non è modo Non è modo Non è modo A me è da ridere A me è da ridere Alias Scusa Non riesco a trattenerlo Questa era bella È già morto Oh Però bella hit No la voleva picconare A scuma Tutto nelle mani Tutto nelle mani Di Jared e Alias Una volta che ho missato No Ragazzi È un po' Paxerello Questo padre Un po' Paxerello Un po' Tipo Alias Ok Vediamo Uh Bello scambio di hit Bassissimo Alias Missa Quanta giorni Ok Va bene Qua Giore ne ha fatto Un hit Ok Ok Cioè Se magari Quello lì Saprebbe Giocare Sapesse Quello lì Quello lì T'ha creato Quello lì T'ha creato E può distruggerti Come ti ha creato Vero Signore No lo distruggo Signore Signore Quanti anni ha Quanti anni ha 40 ha detto Signore Ti riti Hanno paura Hanno paura di vedere Così Orribili Andiamo insieme Non da solo Non da solo C'è paura Perché Alias Ma neanche i bot Quelli che scendono A corso commercio Neanche quelli che scendono A corso commercio Però va bene Ti sta facendo fare un po' Di brutta figurale Ok Oh pa Pa Non va bene Non va bene No No Non va bene Basta Adesso ti ho fatto Ultimo round Guarda Adesso veramente Faccio questo E poi Se mi fai Non sai troppo giocare Va bene Alias Ma lo dovevi sapere già Scusami Oh no E Alias Lo dovevi già sapere Che non sapeva giocare Scusami E Alias No Lui sapeva giocare Cosa Cosa Quando sapeva giocare Ma tu sei quel cadavere Sei quel cadavere lì sopra Sfigato No Dissing Jaren Dissing Ah no A me A te A te Ma no Mamma mia Alias Sono le due Però sta nel mondo Di sogno Ragazzi Ok guarda che Ma l'ho muto Basta Va bene Va bene Oh solo picconate Solo picconate Guardalo Guardalo Ma è una statua È una statua Alias È una statua Corca miseria È una statua Allora Dai passi È stato picconato Più tu Che Perché Che te Oh ragazzi Ragazzi Si dodicesimo round Qua eh Dodicesimo round Eh Jaren ha deciso di lasciare in vita il padre di Alias Vuole divertire la vita Alias È andato 200 200 è entrato Jaren è entrato 200 È entrato 200 Povero Alias 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 No no Veramente Guarda Guardalo Guarda Ascolta 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 Veramente Ti si installa il gioco E te lo tolgo io E te lo tolgo io Ah Ciao Alias Vuole disinstallare Alias Che cosa c'ho Alias Stai andato Alias Ha quitato Sta in lobby sicuro Alias Stai andato Ha quitato Ha quitato Stai andato Alias Diego Ma sta in lobby sicuro Alias Su dai Un gioco Perché Da Ripresa Ma chi sta sparando Lui sta sparando Ha abbandonato proprio il gruppo Va bene Provino Ragazzi Superato o non superato Direi di no Va bene È stato un piacere Alias Ora lo contatto io È impazzito Vai Vai Su Risto Squadra Vai Ciao Ragazzi Ciao È stato un piacere Ciao